Allora, mettiamo una cosa in chiaro, come tutti sapete ci sono tre cose che nella vita non cambiano mai, la terza la cambiamo perché dicevano la morte e le tasse, durante il periodo di una guerra dicevano la fratellanza araba, noi invece che non cambia mai è la presenza di Sebastiano Angelo, scherzo ovviamente, è piacevole, è un amico, nell'imminenza dell'edizione, nel caso particolare, 27esima di Ragusano nel mondo. E' il dramma per un tizio che deve parlare e raccontare qualcosa alla gente e alla quinta intervista cosa possiamo non avere detto che dobbiamo dire. Parliamo un po' allora dello spettacolo, visto che sappiamo già chi sono i premiati, sappiamo che giovedì prossimo ci sarà la conferenza stampa. Con la presenza dei premiati. Questo giovedì, fra due giorni. Giovedì 28. L'altro giovedì, alla presenza dei premiati, quindi ci sarà occasione chiunque voglia incontrarti dove sarà la conferenza stampa. Dove l'ha fatta? La provincia? La facciamo sì, nella sala Giovanni Molè della provincia. Per cui, detto questo, allora sorprendici. Sì, è un'edizione che ha forti momenti di spettacolo. Chiaramente la parte centrale sarà rappresentata dal concerto, tutto su musiche da colonne sonore dell'orchestra e del teatro Massimo Vincenzo Bellini. È un programma molto ruffiano, molto integrante, che sicuramente incollerà le persone alle sedi e delizierà le orecchie di quanti saranno in Piazza Libertà, ma anche di quanti avranno modo di seguire l'evento dalle dirette televisive e dalla dirette streaming sulla pagina del premio Ragusale. Poi tra l'altro ci saranno comunque i vari replay durante... I vari replay durante le settimane successive. Ecco, si avrà modo di stancarsi di vedere il premio Ragusale nel mondo come in ogni anno. Poi c'è sempre, per parezza, non può non esserci, con la presenza di una delle più brave soprano della nostra zona, fra l'altro anche lei lavora per lo stabile di Catania, che è Emanuela Cocuccio, che sarà accompagnata, oltre che da peparezza della sua orchestra, anche dal fratello primo violino del teatro Massimo Giovanni Cocuccio. Quindi un trio più gli orchestrali di Peppe, molto assortito. Lei ci direzzerà con alcune belle aree del canto italiano. Poi ci sarà una sorpresa dell'ultima ora, durante la fase di passaggio... Quindi non lo so neanche io. Non lo so neanche tu. C'è qualcosa. Come vedi il premio riserva sempre i momenti di sorpresa. C'è una fase di passaggio tra la prima e la seconda parte, quando l'orchestra scende dal palco e lascia poi spazio alla seconda parte, che è quella più squisitamente... Scende l'orchestra, non è che sono 1 e 2, ci vuole un minimo. Sono circa 80, insomma. Lascerà appunto lo spazio alla parte più squisitamente cerimoniale. Chiaramente ci debbano essere degli interventi, ne abbiamo parlato. Ma in quel contesto di liberazione, se mi è consentito di dire, del palco di tutte le masserizie dell'orchestra, ci sarà un intermenzo comico che ritornerà niente poco di meno che il mitico Massimo Spada. E quindi, infatti, stavo chiedendo se era previsto un legame, un occhiello. Un occhiello, sì, esatto, che distrarrà gli spettatori per 10-15 minuti, un quarto d'ora massimo, e quindi ci consenterà poi di prepararci per la seconda parte della serata. Scusi, mi è previsto un solo occhiello o più di un? Uno solo, anche perché il programma è abbastanza corposo, e quindi abbiamo sempre la necessità di contenerlo nei tempi canonici non esagerati. Noi contiamo di iniziare alle 8, anzi io poi prego tutti quelli che hanno avuto il pass, tutti quelli che vogliono venire in Piazza Libertà, lo ripeterò mille volte, l'ingresso è gratuito. Chi vuole una prelazione fino alle 8 potrà chiedere il pass ed entrare. Dopo le 8 questa prelazione decade. Chi c'è, c'è. Noi faremo entrare tutte le persone che sono fuori dal recinto. Dicevo ecco, inizieremo alle 20 e dobbiamo chiudere improrocabilmente entro le 11, 11.30 max. Una bella serata che ancora una volta riteniamo, se tutto andrà come deve andare, per il verso giusto e non ci saranno impreviste di alcun genere, segnerà un'altra tappa importante nella lunga storia del premio. E se mi è consentito, cari Gianni, io rimarco sempre un punto che mi sta molto caro. Questo è un evento che promuove la città di Ragusa, che ha una forte percezione popolare, un forte radicamento popolare e cui probabilmente non corrisponde un uguale sentire da parte dei piani alti delle istituzioni. Non è un mio vecchio cruccio, speriamo che prima di che si abbassi definitivamente se si pari su questa manifestazione vorremmo arrivare a Trento. Ci sia finalmente quel riconoscimento ufficiale da parte delle massime istituzioni locali a un evento che comunque sia assegnato la storia socioculturale della città di Ragusa, ma di tutta l'area ebrea negli ultimi 25-30 anni. Senti, è molto interessante questo occhiello, questo anello di congiunzione che tiene le due parti della serata, ma ci sono anche, e credo che due parole bisogna spendere, delle presenze fisse, al di là del presentatore di tutt'uno di questi, chiaramente, è Peppe Arezzo. Peppe Arezzo è un belastro del premio, ma ci sono tanti altri belastro. Il premio si è sempre identificato con Peppe Arezzo, il quale poi anche lui a sua volta col tempo ha portato anche altri esponenti del suo gruppo cantanti, eccetera, eccetera. Mi sono sempre chiesto, mi sono sempre chiesto, se non hai, per esempio, fatto sempre anche un intermezzo, sia pure breve, tranne le volte che erano i premiati, magari riservato alla danza, perché no? Era più complicato? No, assolutamente, noi abbiamo dato grande spazio alla danza in questi ultimi anni, con la moglie di Peppe Arezzo, ma anche con le ragazze della Mila Plavisic, a tanti altri gruppi, gruppi oppure singoli ballerini di spessore internazionale, ricordo un anno si esibì il Mano Smezzo, i fratelli e sorelle di Citra, non lo dimentichiamo. Ma si sono esibiti in un duetto indimenticabile, Maurizio ed Aurora, il giro. Però, dico, oltre alla danza, oltre alla musica, oltre alla parte comica, poteva anche esserci un breve intervallo recitativo, questo non c'è stato quasi mai. C'è stato in qualche anno, con la presenza di Massimo Leggio, ma vedi… È più complicato. È più complicato, insomma. Lì, o vai proprio sulla parte comico-cabarettistica, con intermezzi veloci, ritemati, in grado di catturare subito l'attenzione del pubblico, oppure rischi di creare un momento, diciamo, di caduta di ritmo, che non va a buon beneficio per la manifestazione. Quanti anni ormai si è superato il quarto di secolo, c'è stato un momento in cui hai avuto, non preoccupazione, paura. Paura ogni anno. No, non sul fatto che vada o non vada bene. Che c'è stato qualche cosa, si rischiava qualche cosa che facesse temere, proprio temere. Non la preoccupazione che possa… Ma è un fatto specifico, no. No, beh, questo è una grossa fortuna. No, c'è sempre grande fiducia, perché proprio c'è un team di validissimi collaboratori, alcuni davvero, insomma, di grande spessore, di grande livello. Però preoccupazione, ansia… Vabbè, questa parte del gioco ci mancherebbe. Qua è che non ci fosse. È normale, ma paura vera e propria no. Perché per esempio, ora diciamo una fesseria, ma c'è un numero di fili che corrono sotto i piedi che è impressionante. È quello, quando parlavo poco fa di imprevisti, tra virgolette, di imprevisti tecnici, e quelli possono succedere in ogni momento, dico. Fanno parte dell'alea normale dell'organizzazione di un grande livello. Un'altra domanda, sempre per cercare di farne qualcuno di versi e di scoprire qualche cosa in più. Quanto è rispettata la scaletta? Questo te lo dice uno che odia le scalette. Però… La scaletta è rispettata con una buona dose di adattamento, una buona dose di anelito al massimo rispetto. Purtroppo non sempre riusciamo a rispettare i tempi. Questo sì, questo è un grande crucio. Quasi mai siamo riusciti a contenerci nei tempi a sedia. Ma sai, se ognuno già solo degli sponsor, invece di metterci, facciamo finto, un minuto a salire, ci mette 30 secondi in fuoco. Vedi, qualcuno, giustamente dal suo punto di vista, eccepisce l'eccessivo tempo dato agli sponsor. Io a questi amici vorrei dire… Basta, ti puoi dire che senza soldi messe non se ne capiscono. Che non vengono in piazza pagando un biglietto, che se non pagassero dovrebbe essere alquanto salato. Perché l'evento è un evento che ha i suoi notevoli costi. Visto, chi dovrebbe pagarlo tutto questo ambaradà? Non apriamo poi una pagina un po' amara, perché lì avrei tanto da dire. Noi dobbiamo ringraziare davvero che ci sia una selezione qualificata. Io ritengo addirittura dei mecianati di aziende che continuano ad investire in questo evento. Perché ovviamente ci credono. Ci credono, sono nati anche rapporti di amicizia, di confidenzialità. Un insieme di cose che ancora oggi ci consente di portare avanti un sogno. Il sogno è quello di raccontare Ragusa e il suo territorio attraverso il racconto di storie umane altamente significative, come quella di quest'anno. Sebastiano, dei premiati ne abbiamo già parlato, ne parliamo per la conferenza. Siamo a 11 minuti e andiamo a chiudere. Vogliamo ricapitolare, abbiamo già detto un'occhio di volta che sarà la sera del 30 luglio, sabato, che inizieremo puntualmente alle 20. Almeno che l'idea è quella. No, 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 inizieremo a chi c'è c'è. Abbiamo dato dei passi che danno solo un diritto di prelazione a trovare la sedia, ma che dopo le 8 questo diritto scadrà. E che comunque ancora uno si può prenotare. Sì, ancora si può prenotare, c'è qualche altro posto disponibile, anzi, coloro i quali sono interessati fate in fretta perché non sono illimitati i posti. Quindi c'è questa grande gratuità, speriamo che tutto vada bene, noi ce la metteremo tutta. È un evento, vedi Gianni, che a differenza di tanti altri, scusami se sono un po' apologetico, mi perdonerete, ha l'anelito ad avvicinarsi alla prefezione. La prefezione non è dell'umano genere, non esiste. Però noi ci proviamo, dico, a fare le cose nella maniera quanto più professionale possibile. Benissimo, e noi con piacere continuiamo a, diciamo, nello spazio, nei 12 mesi, tra la fine di una edizione o puntata, se volete, alla successiva, noi abbiamo una serie di appuntamenti nei quali cerchiamo di avviscerare il precedente per le prime due o tre volte e il prossimo per le altre. Allora, ricordiamo l'appuntamento, è sempre con una questione nel mondo. Sebastiano, ti ringrazio e ti saluto. Grazie a voi. Ricordo, l'occasione è notevole, oltretutto di questi tempi, una serata al fresco, o almeno quello che si spera. Al caldo o demberato. Al caldo o almeno senza sole, non sarebbe una cattiva idea. Allora, mi raccomando, cerchiamo di essere bravi, ordinati, per consentire, come sempre, il miglior svolgimento possibile. Grazie Sebastiano. Grazie a te e grazie a tutti voi.